Perché è esistita? Chi era Ercongota e perché è esistita? Commento Ercongota, vergine e santa benedettina, è trapassata molto giovane nel 660. Era figlia del re Ercoberto del Kent e di Santa Sexburga. Fu monaca sotto sua zia Santa Etelburga. Ercongota è esistita per sperimentare la chiesa che a quei tempi governava i secoli. È morta molto giovane perché aveva terminata la sua esperienza come donna e come santa.